ciao ragazzi e bentornati a questa nuova lezione oggi vediamo un nuovo tipo di livello chiamato livello di regolazione che si andrà ad aggiungere a quelli visti finora ovvero il livello forma e livello tinta unita allora tanto per cominciare creiamo una nuova composizione quindi clicchiamo l'andiamo a chiamare lezione 31 solito preset full hd 1920x1080 25 frame durata 5 secondi e mettiamo questo sfondo virtuale nero e clicchiamo su ok adattiamo la visualizzazione benissimo ora il livello di regolazione è molto simile al tinta unita innanzitutto vediamo come si crea per prima cosa ho già importato tre fotografie andiamo a prenderla prima la portiamo nella nostra timeline mi accorgo subito che è molto grande per cui col tasto s vado a modificare la scala e la vado a riproporzionare alla nostra dimensione dopodiché prendiamo questa seconda fotografia e la portiamo sopra anch'essa ha bisogno di una ridimensionata e la portiamo più o meno a questa dimensione e la portiamo qui e infine la terza fotografia la portiamo qui e anche per questa andiamo a scalare la facciamo diventare una sorta di miniatura così e la mettiamo qua bene ora vediamo come si crea il livello di regolazione e il metodo è esattamente identico per tutti gli altri tipi di livelli che abbiamo già visto ovvero ci basterà andare nella barra dei menu livello nuovo livello di regolazione oppure la scorciatoia da tastiera control alt più y oppure di nuovo qui cliccando con il tasto destro nella parte vuota della timeline nuovo livello di regolazione quando noi andiamo a cliccare un nuovo livello si sarà andato ad aggiungere in cima a tutti gli elementi di metraggio che si trovano nella nostra timeline e avrà assunto le dimensioni della nostra composizione la durata come vedete qua nella linea temporale è la stessa durata della nostra composizione e quando vi dicevo che è molto simile al tinta unita perché nel momento che viene creato un livello di regolazione nella finestra di progetto apparirà questa cartella chiamata tinte unite dove al suo interno è presente il nostro livello di regolazione un'altra similitudine alla tinta unita e l'icona identificativa a forma quadrata che vediamo qui di fianco al nome del livello ma la cosa che forse li rende più simili è il fatto che se volesse andare a modificare le dimensioni quindi i settings del livello di regolazione la strada il percorso da seguire sarebbe lo stesso del tinta unita ovvero livello impostazioni tinta unita e vedete che nel nome mi viene identificato il livello di regolazione ovviamente col mio strumento di selezione una volta selezionato il livello posso andarlo a modificare prendendo uno dei vertici e vedete che ho la possibilità di andarlo a modificare manualmente sia in altezza che in larghezza e tenendo premuto il pulsante shift lo farò in maniera proporzionale bene come è strutturato il livello di regolazione per prima cosa vi faccio notare che se lo prendo lo porto fuori dalla composizione è un livello rettangolare completamente trasparente ed è identificabile dal tracciato e i vertici perimetrali che vediamo apposti ai suoi margini la particolarità del livello di regolazione è che nasce per ospitare degli effetti che andranno a influenzare tutti i livelli che si trovano sotto di esso per cui applicato un effetto al livello di regolazione questo avrà effetto su tutti i livelli che si trovano sotto di esso in questo caso le nostre tre foto direi subito di fare un esempio per cui selezionato il livello di regolazione andiamo su effetti predefiniti andiamo a scegliere un effetto semplicissimo quello del bianco e nero lo prendiamo lo trasciniamo o all'interno del monitor oppure sopra il livello e lo rilasciamo ora come potete notare tutte le nostre immagini presenti all'interno della nostra timeline sono diventate in bianco e nero magari andiamo ad aumentare un pochino la risoluzione così lo vediamo anche un po meglio ora se noi andiamo a selezionare il livello di regolazione e lo vado a ridimensionare vi faccio notare che l'effetto inserito al suo interno influenza solo le immagini quindi i livelli che si trovano all'interno del perimetro su cui è applicato l'effetto per cui come potete vedere ora il livello di regolazione che è stato ridimensionato avrà effetto su tutte le immagini o livelli sottostanti che siano video grafica in base alla dimensione del livello di regolazione e essendo un livello di regolazione che come tutti i livelli contiene al suo interno le proprietà di trasformazione di base possiamo anche decidere di andare a creare un'animazione su ogni singolo parametro per cui potremmo fare velocemente una un'animazione sulla posizione per cui accendo l'orologio di posizione del nostro livello e una volta fissato il keyframe a tempo zero vado a spostarlo fuori dal nostro monitor dopodiché ci riportiamo a 4 secondi e andiamo a rispostare il nostro livello di regolazioni fuori per ottenere una maggiore distanza di spostamento tenete prenduto il pulsante shift vedrete che lo sposterete in un unico colpo direttamente fuori dal monitor ora se andiamo in riproduzione quello il risultato sarà un livello trasparente su cui è applicato un effetto che nel punto in cui passa andrà a influenzare tutto quello che si trova sotto di esso in questo caso le nostre tre fotografie bene stoppiamo e se ora volessi che il nostro livello di regolazione influenzasse solo la fotografia grande che si trova come sfondo senza andare a toccare le nostre due piccole foto qua davanti come potrei fare beh innanzitutto mi basterà spostare al livello gerarchico direttamente il livello di regolazione sopra la fotografia che è quella dello sfondo in questo caso è l'ultima per cui le immagini che si trovano sopra il livello di regolazione non saranno influenzate infatti se mandiamo in riproduzione vediamo che il livello di regolazione ha effetto solamente sulla foto sottostante se invece volessi fare il contrario e fare in modo che il livello di regolazione influenzasse solo le due piccole anteprime delle foto qua senza influenzare la foto grande come potrei fare di sicuro non dovrei solamente portare il livello di regolazione soprattutto perché mi andrebbe a influenzare anche la foto di sfondo ma sappiamo che per isolare quelli che possono essere gli effetti di alcune proprietà o di alcuni effetti ci basterà andare a inserire quello che ci interessa all'interno di un contenitore in questo caso il livello di regolazione con le due immagini delle anteprime le andiamo a precomporre quindi una volta selezionate tasto destro precomposizione e possiamo chiamarlo livello di regolazione e diamo invio ora se mandiamo in riproduzione ci accorgiamo che l'effetto del passaggio del nostro livello di regolazione ha effetto solamente sulle due piccole foto che vediamo qua facciamo un passo indietro con il contro z e vi voglio fare anche un altro esempio in questo momento noi abbiamo inserito solamente un unico effetto sul livello di regolazione lo vediamo qui nella finestra del controllo effetti possiamo fare anche un altro esempio andando inserire un effetto di trasformazione che è molto simile alle proprietà di trasformazione che si trovano all'interno di un livello con la differenza che ora essendo un effetto questo avrà influenza solo all'interno del perimetro del livello di regolazione ovviamente questo livello io ora l'ho ridimensionato ma lo potrei riportare a una dimensione tale che mi possa coprire tutta la mia composizione potrei anche andarlo a ruotare quindi utilizzando o il nostro strumento di rotazione oppure andando a lavorare direttamente con le proprietà all'interno del contenitore di trasformazione di base ma andiamo a vedere questo effetto quindi ctrl z torno indietro andiamo a cercare trasformazione e si trova all'interno delle categorie di distorsione e lo andiamo ad applicare ora fate attenzione essendo che il livello di regolazione ha una dimensione piuttosto piccola se io mi metto sopra la nostra foto di sfondo vedete che viene selezionata tutta la nostra immagine mentre io devo andare sopra il livello di regolazione vedete che ora il livello è stato selezionato per cui lo posso rilasciare direttamente anche qua apparentemente non è successo niente ma questo tipo di effetto si usa solitamente per creare degli effetti di zoom o lenti di ingrandimento per cui se vado a interagire col parametro della scala vedrete che la porzione dove si trova il livello di regolazione a cui è applicato questo effetto subirà un ingrandimento vedete che si ingrandisce e durante un'animazione durante il passaggio sopra gli elementi che si trovano sotto di esso li andrà a ingrandire quindi andare a creare degli effetti davvero molto carini possiamo andare a disattivare anche il l'effetto bianco e nero per vedere ancora meglio come lavora questo effetto di trasformazione su cui abbiamo modificato solamente il parametro della scala molto semplice ma molto d'impatto bene ora invece mi voglio soffermare su un aspetto molto tecnico ovvero la particolarità del livello di regolazione che lo rende diverso da tutti gli altri in realtà è questo piccolo interruttore che vediamo negli switch qui nella timeline di fianco al nostro livello di regolazione ed è questo piccolo cerchietto a forma di mezzaluna ora la prima cosa che voglio fare è andare a disattivare l'animazione del nostro livello quindi sul livello di regolazione richiamo con la U la proprietà che è stata animata e qui posso andarlo a disattivare quindi togliere completamente l'animazione ora il nostro livello di regolazione a questa dimensione defermo qua al centro lo andiamo ad allargare e andiamo a disattivare anche l'effetto di trasformazione e siccome ora ho due effetti li potrei cancellare ma a questo punto mi basterà andare a cliccare qui per disattivarli entrambi bene soffermiamoci su questo interruttore perché quando vi dicevo che il livello di regolazione molto simile al tinta unita oltre alla cartella delle tinte unite all'icona e anche al pannello dei settings se io dovesse andare a disattivare ora questa piccola icona mezzaluna guardate cosa succede il livello di regolazione è diventato a tutti gli effetti un livello a tinta unita perché ora è diventato bianco e ora abbiamo il motivo per cui l'icona è rappresentata bianca e se andiamo all'interno del livello impostazione tinta unita unita e andiamo a modificare il colore della nostra base vedete che saremo andati a modificare e sarà diventato a tutti gli effetti un livello tinta unita la particolarità del livello di regolazione una volta che viene applicato un effetto al suo interno è quello di andare a influenzare tutto quello che c'è sotto e questo è grazie a questo interruttore per cui se io adesso vado a creare un livello a tinta unita e lo facciamo di un colore fucsia lo portiamo in cima disattiviamo la visualizzazione del livello di regolazione e ora al livello tinta unita gli andiamo ad accendere l'interruttore del livello di regolazione questo sarà diventato a tutti gli effetti un livello di regolazione e se ora anche qua gli andiamo ad applicare un effetto bianco e nero vedrete che questo effetto andrà a influenzare tutto quello che si trova sotto per cui la domanda che voi vi state ponendo in questo momento è ma se io dovesse andare ad attivare questo interruttore anche su una fotografia o una grafica o un video cosa succederebbe avete già la risposta ognuno di questi livelli applicando e attivando questo piccolo interruttore diventerà un livello di regolazione va da sé che se decido di andare ad attivare il livello di regolazione su questa fotografia e direi di fare subito un esempio andiamo a cancellare queste prime tre foto lasciando solamente quella di sfondo gli andiamo ad aggiungere questa fotografia sopra che c'è questa ragazza nel momento in cui io decido che questo livello quindi questa fotografia debba diventare un livello di regolazione attivando l'interruttore il contenuto della fotografia diventerà completamente trasparente ora lo vediamo troppo grande perché non l'avevamo ridimensionato per cui lo ridimensiono e se ora andiamo a vedere il nostro livello è diventato a tutti gli effetti un livello trasparente per cui utilizzando questo interruttore andremo a sostituire il contenuto di qualsiasi livello lo faremo diventare trasparente e ora potrà ospitare un effetto che andrà a influenzare tutti i livelli che si trovano sotto di essi per cui possiamo andare a prendere il bianco e nero lo portiamo sopra la nostra il nostro livello di regolazione e vedete che nel punto in cui il nostro livello di regolazione si trova sul monitor influenzerà tutto quello che si trova sotto in questo caso il livello che vediamo qua bene per quello che riguarda il livello di regolazione è tutto e ci vediamo alla prossima lezione ciao